In questo video vedremo di nuovo come integrare il Digital Storytelling in classe. Rapidamente, il Digital Storytelling è una metodologia attiva tramite la quale i ragazzi sono al centro del loro apprendimento e per esserlo narrano storie. Parte dall'idea che tramite il racconto si impara meglio, più efficacemente, un argomento di studio e non si identifica semplicemente con una presentazione multimediale perché è retta da uno storyboard, quindi sostanzialmente da una storia. Le tipologie sono molte, quella dei finali alternativi o prologhi, interviste, dialoghi impossibili e poi arriviamo a quella che ci interessa ora, quella della biografia, autobiografia e soprattutto il reportage giornalistico o anche solo fotografico. Poi ci sono anche tipologie come la science fiction o simulazione di un programma TV. I vantaggi sono quello di un apprendimento esperienziale, maggiormente creativo, potenzialmente multidisciplinare, dipende dall'approccio che si adopera e molto probabilmente trasversale in quanto nel comporre un digital storytelling è probabile che i ragazzi apprendano, oltre ai contenuti disciplinari, anche per esempio l'uso di certi software oppure l'uso di quella che è l'abitudine al lavoro cooperativo, ad esempio il lavoro di gruppo. Come integrarlo in classe? In questo caso scegliamo un approfondimento di attualità, magari derivante da un tema possibilmente esperibile nel proprio territorio. La tipologia che abbiamo scelto è il reportage e l'obiettivo è lo studio sul campo di un fenomeno. Quindi lo studio sul campo mediante ad esempio l'intervista o il reportage fotografico e lo strumento che adopereremo sarà il nostro sito TAC, TAC.com Ecco quindi che vediamo il nostro esempio di reportage. Questo lavoro è reperibile al sito TAC.com slash reportage a scuola, scritto tutto attaccato. Ho costruito questo TAC in maniera molto semplice. Innanzitutto riportando, dopo il titolo iniziale, una breve descrizione di cosa può essere un reportage. Sono avvantaggiate naturalmente le classi che aderiscono al progetto quotidiano in classe. Un reportage rapidamente è tematico, vale a dire è una relazione attorno a un argomento, ha un taglio soggettivo e in questo ha un qualcosa di letterario, è spesso legato all'attualità, non solo ma spesso, può essere corredato da foto e video, fino al punto da divenire anche totalmente, integralmente fotografico. Esistono vari tipi di reportage, fotografico, quello di inchiesta o quello di viaggio. Il reportage giornalistico che io ho richiesto ai miei studenti era di questo tipo. Un luogo noto, un luogo meno noto della mia città. L'obiettivo era quello di far conoscere il proprio territorio. Abbiamo detto che l'obiettivo è lo studio sul campo, il cosiddetto learning by doing, imparare facendo. In questo caso facendo un reportage, conoscere ad esempio dei monumenti, delle vie, alcune note, e questa è una parte della consegna, un luogo noto, ma anche altre meno note della mia città. Ecco, indicazioni operative. Il mio liceo, la mia classe, ecco, il reportage deve rispettare questi punti. Nel momento in cui la classe, in questo caso un primo superiore, si trova per la prima volta ad affrontare questa tipologia, è molto utile dare indicazioni. Deve essere innanzitutto realizzato in gruppo e pubblicato su TAC, questo per dare uniformità al lavoro. Deve recare un titolo con sopratitolo e sottotitolo, questo perché avendo studiato l'articolo di giornale, la classe possiede questo lessico. Poi deve recare un testo di almeno 1200-1500 battute, quindi un testo molto breve, quindi l'obiettivo non era una stesura di un testo lungo. Deve recare poi, ecco, questo è un aspetto che già maggiormente mi interessa, un'immagine significativa di copertina. E poi deve recare una documentazione fotografica di cinque scatti originali, originali vuol dire non desunti da internet, quindi fatti dai ragazzi, non rielaborati, non modificati, non filtrati, e questi scatti devono essere inframezzati, ecco qua, dal testo, e rappresentarne una chiarificazione iconografica, non devono essere, vale a dire, immagini a caso della città. Possibilmente uno scatto deve prevedere la presenza dell'autore tra i soggetti, e questo è uno stile di reportage, non tutti gli autori si fanno fotografare nel proprio reportage, però era anche un modo di coinvolgere più o meno scherzosamente i ragazzi. E poi, aspetto tecnico non meno importante, deve recare la documentazione dettagliata del lavoro, quindi vale a dire, specificare i giorni, le ore di lavoro impiegate, i ruoli di ciascuno, e anche la documentazione tecnologica usata. Questo è soprattutto un esercizio di metodo, vale a dire, il modello della macchina fotografica, il modello di computer adoperato. Paradossalmente questo aspetto, che era quello che ritenevo più semplice, è stato quello che ha messo più in difficoltà i ragazzi, perché in questo ambito sono stati piuttosto generici, hanno identificato il nome di un computer, spesso con la marca, e non il modello e via discorrendo. Opzionalmente può recare un breve video dell'evento, di massimo due minuti, una breve intervista, e un montaggio finale, ecco, con una specie di slideshow, con foto e video tutti insieme. Ho, di seguito, nella convinzione che occorra sempre insegnare, anche con l'esempio, ho portato un esempio di vero e proprio reportage dal titolo Venezia tra mistero e turismo. Il sopratitolo è Dalla scala del bovolo a piazza San Marco, il titolo del reportage vero e proprio è Venezia tra mistero e turismo, il sottotitolo è Una passeggiata tra i luoghi noti e meno noti della città lagunare. Questa è la foto di apertura, che chiedeva anche ai ragazzi, l'esempio di testo. Naturalmente TAC consente di inserire agevolmente tutto questo, ma da mano che illustro il TAC, voi vedete che di tanto in tanto compaiono queste interfacce che consentono rapidissimamente di inserire contenuti. Esempio di foto inframmezzata al testo, cioè nel testo si parla di queste porte e c'è l'immagine delle porte stesse. Si prosegue poi con delle foto inframmezzate al testo. E poi, questa è un po' l'idea, a Venezia, a Piazza San Marco, simulerebbe il luogo noto della mia città. E poi, a Scala del Bovolo, naturalmente non è un luogo non noto, però indubbiamente non è tra i primi cinque luoghi che può venire in mente quando si parla di Venezia. E quindi c'è una documentazione iconografica e anche, ecco, delle didascalie. Fine del reportage, documentazione tecnica. Qui ho simulato, naturalmente, una serie di strumenti, Nikon, quindi modello, obiettivo, e allo stesso tempo anche altri modelli, allo stesso tempo un computer, un hard disk esterno, un registratore portatile. Documentazione dell'esperienza del processo. Qui ho simulato una serie, un nomi di fantasia di potenziali studenti, Lucio, Mirella, Giacome e Linda, che sono incontrati un tot numero di volte a svolgere una determinata fase del lavoro. Documentazione fotografica dell'esperienza. Qui chiedevo che i ragazzi facessero una foto della loro piccola redazione. Ho scelto, naturalmente, foto storiche per dare anche lo spunto in classe, per parlare di Montanelli, per parlare di un film celeberrimo sul tema del reportage, per parlare di TV, dei nostri giorni, e per parlare anche di quelle che erano un tempo le redazioni molto diverse da quelle oggi pressoché totalmente digitalizzate. Ecco, tema della valutazione. Questo è molto importante. Il tema della valutazione, ho costruito una griglia, la valutazione finale seguirà i seguenti indicatori. Correttezza formale dei testi, genererà un voto da 1 a 5, originalità del taglio, accuratezza del materiale, esattezza della documentazione. L'aspetto che più mi ha interessato di questo esperimento è che questa valutazione finale non è data dal docente, ma è una valutazione peer-to-peer. È data, vale a dire, dagli studenti. Gli studenti, dopo aver visionato, ascoltato tutti i reportage, a loro volta danno la valutazione a loro e a quello degli altri. Naturalmente il docente partecipa, io ho partecipato alla valutazione, contando il mio voto come quello degli altri, e di conseguenza generando alla fine una valutazione numerica, che non era l'obiettivo naturalmente del lavoro, ma era importante. Questa valutazione è di gruppo, un altro aspetto importante. Una valutazione di gruppo vale a dire che tutti i membri del gruppo, 3, 4, se il gruppo ha raggiunto una valutazione di 7, di 8, di 9, tanto per restare nella, diciamo, ormai mitologica scala in decimi, è un voto che poi acquisiranno tutti gli studenti. A me, come insegnante, non è interessato a sapere quanti abbiano fatto cosa, anche se, come avete visto, c'è una parte dedicata alla documentazione dell'esperienza dove si dice chi ha fatto cosa. In realtà, questo aspetto deve essere completamente gestito dai ragazzi. Questo perché è ovvio che in lavori di questo tipo c'è chi spende molte energie e chi meno, però è una dinamica di gruppo nella quale, per scelta, non volevo entrare perché volevo che venisse gestita dai ragazzi. Alla fine, due video presenti su YouTube a mo' semplicemente di suggerimento nel quale si parla di reportage. Sono tratti dal Festival del giornalismo di Perugia e sono spunti molto interessanti perché parliamo di reportage di guerra e, nel primo caso, e nell'altro di un reportage, di come cambia il reportage all'epoca di internet e all'epoca di materiali non cartacei.